Immaginate diverse aziende di diversi settori che collaborano insieme per ridurre a zero gli sprechi e immaginate che da tutto questo lavoro venga fuori una linea biologica per tutta la famiglia, anche per i più piccini. È proprio quello che è successo in Bretagna, dove Ibrochet ha avviato una collaborazione con diverse aziende di produzione di sidro, che è una bevanda a base di mela, proprio per promuovere l'utilizzo delle parti della mela che venivano scartate e buttate via perché non utilizzate nella produzione appunto di questa bevanda. È così che abbiamo potuto sfruttare tutte le parti del frutto per creare una linea certificata bio con oltre il 99% di ingredienti naturali. Infatti dalla buccia prendiamo il succo di mela per mantenere la pelle idratata e morbida, dalla polpa l'estratto di mela per proteggere la pelle dalle azioni esterne, dai semi l'olio di mela per nutrire e rafforzare ancora di più la barriera della pelle. Infatti questa linea Famiglio Bio è composta da ben 5 prodotti di uso quotidiano ed è adatta a tutti i tipi di pelle, soprattutto quelle più delicate e quelle più sensibili che hanno sempre bisogno di un'accortezza in più. Vediamo uno a uno tutti i prodotti di questa linea. Il primo è lo shampoo doccia che andrà a sostituire il bagno doccia delicato della linea Mamelis, il fracone rosa chiaro per intenderci. Questo shampoo doccia senza solfati deterge con delicatezza corpo e capelli e allo stesso tempo li idrata e li lascia morbidissimi. Essendo così delicato poi è adatto anche ai più piccoli e ha una pelle molto molto sensibile. Abbiamo poi il latte corpo che idrata e protegge la pelle di mani e corpo dalle aggressioni esterne in un solo gesto. Ha una texture molto fluida e leggera che si assorbe velocemente senza appesantire la pelle e lasciando un delicato profumo di mela veramente buonissimo. Abbiamo poi il balsamo del frutteto, ve lo faccio vedere. Ha una texture cremosa e ricca di oli essenziali e dona un sollievo istantaneo alla pelle. Ne basta davvero pochissimo perché ha un'efficacia davvero incredibile. Per che cosa si usa? È un prodotto multiuso in realtà, per pelle, labbra, punte dei capelli, qualsiasi rossore e irritazione. Abbiamo poi la crema leggera, che è una crema viso molto leggera e molto idratante, che aiuta a rafforzare la barriera cutanea della pelle e prevenire la secchezza. È adatta sia a chi ha la pelle da normale a secca, ma soprattutto a chi ce l'ha molto sensibile e delicata, quindi anche pelli miste e grasse, perché dà un sollievo immediato. E poi abbiamo la Cica Creme, un prodotto molto particolare e miracoloso. Serve proprio a riparare le zone più fragili, più delicate della pelle e soprattutto anche sulle scoriazioni perché aiuta la cicatrizzazione. Attenzione solo alla texture, perché è molto molto corposa. Ve la faccio vedere. Infatti non esce. Eccola qui. È molto densa. Ne basta davvero pochissima per coprire, come vedete, un'ampia zona. Si assorbe velocemente, però comunque non utilizzatene troppo, perché poi altrimenti rischia di diventare pesante. E mettetela solo sulle zone più irritate e più rosse. Intanto avrò le mani morbidissime. Vi faccio vedere tutti i prodotti della linea. Sono sicura che questa linea sarà presto presente in tutte le case, soprattutto perché è molto più attento all'ambiente e ai prodotti che utilizza sulla sua pelle, proprio perché sono super super naturali. Aspetto i vostri commenti, sono curiosa di sapere che cosa ne pensate e per qualsiasi domanda o curiosità sono qui a disposizione. Scrivetemi qui nei commenti o tramite Whatsapp. Un bacione!